Ciao ragazzi, rieccoci con un altro video. Oggi vogliamo leggere la testimonianza di Madre Eugenia Elisabetta Ravasio, un messaggio direttamente da Dio Padre. È degno di nota il fatto che il Padre nel 1932 dettò a Madre Eugenia il messaggio in latino, lingua a lei totalmente sconosciuta. L'unica rivelazione fatta personalmente da Dio Padre e riconosciuta autentica dalla Chiesa, dopo dieci anni di rigorosissimi esami. Buon ascolto. Ecco il messaggio del Padre, primo fascicolo. Primo luglio 1932, festa del prezioso sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, finalmente il giorno per sempre benedetto della promessa del Padre Celeste. Oggi terminano i lunghi giorni della preparazione. Mi sento vicina, vicinissima alla venuta del Padre mio e del Padre di tutti gli uomini. Alcuni minuti di preghiera e poi delle gioie tutte spirituali. Sono stata presa da una sete di vederlo e di sentirlo. Il mio cuore bruciante d'amore si apriva con una confidenza talmente grande da farmi constatare che fino allora non ero stata così fiduciosa con nessuno. Il pensiero del Padre mio mi gettava come in una follia di allegrezza. Finalmente dei canti cominciano a farsi udire, degli angeli vengono e mi annunciano questo felice arrivo. I loro canti erano così belli che mi sono proposta di scriverli appena possibile. Questa armonia cessò un istante ed ecco il corteo degli eletti, dei cherubini e dei serafini con Dio nostro creatore e Padre nostro. Prostrata la faccia a terra, inabbissata nel mio nulla, ho recitato il Magnificat. Subito dopo il Padre mi dice di sedermi con lui per scrivere ciò che ha deciso di dire agli uomini. Tutta la sua corte, che l'aveva accompagnato, è scomparsa. Solo il Padre è rimasto con me e prima di sedersi mi dice. Te l'ho già detto e te lo dico ancora. Non posso più donare un'altra volta il mio figlio di letto per provare il mio amore per gli uomini. Ora è per amarli e perché essi conoscano questo amore che io vengo tra loro, prendendo la loro somiglianza, la loro povertà. Guarda, io te pongo la mia corona e tutta la mia gloria per prendere l'atteggiamento di un uomo comune. Dopo aver preso l'atteggiamento di un uomo comune, deponendo la sua corona e la sua gloria ai suoi piedi, prese il globo del mondo sul suo cuore, sostenendolo con la mano sinistra, poi si sedette accanto a me. Sul suo arrivo, sull'atteggiamento che si degnò di assumere e sul suo amore non posso dire che qualche parola, nella mia ignoranza non ho parole per esprimere ciò che egli mi fece capire. Pace e salvezza, disse, a questa casa e al mondo intero, che la mia potenza, il mio amore e il mio spirito santo tocchino i cuori degli uomini, affinché tutta l'intera umanità si volga verso la salvezza e venga verso suo padre che la cerca per amarla e salvarla. Che il mio vicario Pio Undicesimo capisca che questi sono giorni di salvezza e di benedizione, che non si lasci sfuggire all'occasione di richiamare l'attenzione dei figli sul padre che viene a far loro del bene in questa vita e preparare loro la felicità eterna. Ho scelto questo giorno per iniziare la mia opera tra gli uomini perché è la festa del sangue prezioso del mio figlio Gesù. Ho intenzione di intingere in questo sangue l'opera che sto iniziando perché essa porti grandi frutti nell'umanità intera. Ecco il vero scopo della mia venuta. Vengo per bandire il timore eccessivo che le mie creature hanno di me e per far loro capire che la mia gioia consiste nell'essere conosciuto e amato dai miei figli, cioè da tutta l'umanità presente e futura. Vengo a portare la speranza agli uomini e alle nazioni quanti l'hanno già perduta da molto tempo. Questa speranza li farà vivere nella pace e nella sicurezza lavorando per la loro salvezza. Vengo per farmi conoscere così come sono perché la fiducia degli uomini aumenti contemporaneamente al loro amore per me, loro padre. Che non ho che una sola preoccupazione, quella di vegliare su tutti gli uomini e di amarli come miei figli. Il pittore si diletta nel contemplare il quadro da lui dipinto, così io mi compiaccio, mi rallegro nel venire tra gli uomini capolavoro della mia creazione. Il tempo urge, vorrei che l'uomo sapesse al più presto che lo amo e che provo la più grande felicità nello stare con lui e parlare con lui come un padre con i suoi figli. Sono l'Eterno e quando vivevo solo avevo già pensato di usare la mia onnipotenza per creare degli esseri a mia immagine, ma occorreva prima la creazione materiale perché questi esseri potessero trovare il loro sostentamento. Allora fu la creazione del mondo. Lo riempivo di tutto quello che sapevo doveva essere necessario agli uomini, l'aria, il sole, la pioggia e tante altre cose che sapevo necessarie alla loro vita. Infine fu creato l'uomo. Mi sono compiaciuto della mia opera. L'uomo commette il peccato, ma è proprio allora che si manifesta la mia infinita bontà per vivere tra gli uomini che avevo creato, scelsi nell'Antico Testamento dei profeti, ai quali comunicai i miei desideri, le mie pene, le mie gioie, perché le trasmettessero a tutti. Più cresceva il male, più la mia bontà mi sollecitava a comunicarmi a delle anime giuste, perché trasmettessero i miei ordini a coloro che causavano il disordine. Così talvolta dovetti usare severità per riprenderli, non per castigarli, perché ciò non avrebbe fatto che male, ma per distoglierli dal vizio e indirizzarli verso il loro padre e il loro creatore, che avevano dimenticato e disconosciuto nella loro ingratitudine. Più tardi il male sommersse talmente il cuore degli uomini che fui costretto a mandare delle sciagure sul mondo perché l'uomo fosse purificato mediante la sofferenza, la distruzione dei suoi beni o perfino la perdita della vita. Fu il diluvio, la distruzione di Sodoma e Gomorra, le guerre dell'uomo contro l'uomo. Eccetera. Ho sempre voluto restare in questo mondo tra gli uomini. Così durante il diluvio ero vicino a Noè, il solo giusto da allora. Anche nelle altre calamità trovai sempre un giusto presso il quale dimorare e attraverso lui dimorai in mezzo agli uomini in quel tempo e fu sempre così. Il mondo è stato spesso purificato dalla sua corruzione grazie alla mia infinita bontà verso l'umanità. Allora continuavo a scegliere alcune anime nelle quali mi compiacevo per potermi di antiloro rallegrarmi con le mie creature, gli uomini. Avevo promesso al mondo il Messia. Che cosa non ho fatto per preparare la sua venuta mostrandomi nelle figure che lo rappresentavano persino mille e mille anni prima della sua venuta. Chi è questo Messia? Donde viene? Che farà sulla terra? Chi viene a rappresentare? Il Messia è Dio. Chi è Dio? Dio è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Da dove viene o meglio chi gli ha dato ordine di venire tra gli uomini? Sono io, suo Padre, Dio. Chi rappresenterà sulla terra? Suo Padre, Dio. Che farà sulla terra? Farà conoscere e amare il Padre, Dio. Non ha forse detto, non sapete che è necessario che mi occupi delle cose del Padre mio? Io non sono venuto che per fare la volontà del Padre mio. Tutto ciò che domanderete al Padre mio nel mio nome Egli ve la concederà. Lo pregherete così, Padre nostro che sei nei cieli. E altrove, poiché è venuto per glorificare il Padre e farlo conoscere agli uomini, dice, Chi vede me, vede il Padre mio. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Nessuno viene al Padre se non per me. Chiunque è con me è anche col Padre mio. Vedete bene, uomini, che da tutta l'eternità non ho che un desiderio, quello di farmi conoscere dagli uomini e di farmi amare, desiderando stare incessantemente presso di loro. Volete una prova autentica di questo desiderio che ho, or ora, espresso? Perché ho ordinato a Mosè di costruire il tabernacolo e l'arca dell'alleanza, se non perché avevo il desiderio ardente di venire ad abitare come un padre, un fratello, un amico, un confidente, con le mie creature e gli uomini. Malgrado ciò, mi hanno dimenticato, offeso, con delle colpe senza numero. E perché si ricordassero, nonostante tutto di Dio, loro padre, dell'unico desiderio che egli ha di salvarli, ho dato i miei comandamenti a Mosè, perché essendo tenuti a osservarli, potessero ricordarsi del Padre infinitamente buono, tutto intento alla loro salvezza, presente ed eterna. Tutto ciò cadde ancora nell'oblio e gli uomini sono affondati nell'errore, nel timore, ritenendo faticoso osservare i comandamenti come li avevo trasmessi a Mosè. Si sono fatte altre leggi conformi ai loro vizi, per osservarle più facilmente. Poco a poco, nel timore esagerato che avevano di me, mi hanno sempre più dimenticato e colmato d'oltraggi. Eppure il mio amore per questi uomini, figli miei, non si è fatto fermato. Quando ebbi ben constatato che né i patriarchi né i profeti avevano potuto farmi conoscere e amare dagli uomini, ho deciso di venire io stesso. Ma come fare per trovarmi in mezzo agli uomini? Non vi era altro mezzo che andare io stesso nella seconda persona della mia divinità. Gli uomini mi conosceranno, mi ascolteranno? Per me niente era nascosto del futuro. A queste due domande rispondevo io stesso. Ignoreranno la mia presenza, pur essendo vicino a me. Il mio figlio mi maltratteranno, non assente tutto il bene che farò loro. Nel figlio mio mi calunnieranno, mi crocifiggeranno per farmi morire. Mi fermerò per questo? No, il mio amore è troppo grande per i miei figli, gli uomini. Non mi sono fermato là. Potete ben riconoscere che vi ho amati, per così dire, più ancora del mio figlio di letto, o per dire ancora meglio, più di me stesso. Ciò che vi dico è talmente vero che se fosse bastata una delle mie creature, per espiare i peccati degli altri uomini, mediante una vita e una morte simile a quella del figlio mio, avrei esitato. Perché? Perché avrei tradito il mio amore facendo soffrire un'altra creatura che amo, anziché soffrire io stesso nel figlio mio. Non avrei voluto mai far soffrire i miei figli. Ecco dunque in breve il racconto del mio amore fino alla mia venuta, mediante il figlio mio in mezzo agli uomini. La maggior parte degli uomini conosce tutti questi avvenimenti, ma ne ignora l'essenziale, che è stato cioè l'amore a condurre tutto. Sì, è l'amore. Ecco ciò che voglio farvi notare nello scritto che state leggendo. Ora questo amore è dimenticato. Voglio ricordarvelo, perché impariate a conoscermi così come sono, perché non siate come degli schiavi timorosi verso un padre che vi ama fino a questo punto. Vedete, in questo racconto, noi non siamo che al primo giorno del primo secolo e vorrei condurlo fino ai giorni nostri, al ventesimo secolo. Oh, come il mio amore di padre è stato dimenticato dagli uomini, eppure viamo così teneramente. Il mio figlio c'è nella persona del mio figlio fatto uomo, che cosa non ho fatto ancora. La divinità in questa umanità si è velata, piccola, povera, umiliata. Io conducevo con mio figlio Gesù una vita di sacrificio, di lavoro. Ricevevo le sue preghiere, perché l'uomo avesse un cammino tracciato, per camminare sempre nella giustizia, al fine di giungere al sicuro, fino a me. Certo, so ben capire la debolezza dei miei figli, perciò ho chiesto a mio figlio di donar loro dei mezzi, per rialzarsi dalle loro cadute. Questi mezzi li aiuteranno a purificarsi dal loro peccato, affinché siano ancora i figli del mio amore. Sono principalmente sette sacramenti, e soprattutto il grande mezzo per salvarvi, nonostante le vostre cadute, è il crocifisso. È il sangue del figlio mio, che a ogni istante si riversa su di voi, purché voi lo vogliate, sia con il sacramento della penitenza, sia anche con il santo sacrificio della messa. Miei cari figli, già da venti secoli vi colmo di questi beni con delle grazie speciali, e il risultato è molto misero. Quante mie creature, divenute figlie del mio amore per mezzo di mio figlio, si sono gettate molto rapidamente nell'abisso eterno. In verità non hanno conosciuto la mia infinita bontà. Io vi amo così tanto. Almeno voi, che sapete che vengo io stesso per parlarvi, per farvi conoscere il mio amore, per pietà di voi stessi, non gettatevi nel precipizio. Io sono vostro padre. Sarebbe possibile che, dopo avermi chiamato vostro padre e avermi testimoniato il vostro amore, trovaste in me un cuore talmente duro e talmente insensibile da lasciarvi perire? No, no, non credetelo. Io sono il migliore dei padri. Conosco la debolezza delle mie creature. Venite, venite a me con confidenza e amore, e io vi perdonerò in seguito al vostro pentimento. Anche se i vostri peccati fossero ripugnanti come il fango, la vostra fiducia e il vostro amore me li faranno dimenticare, così che non sarete giudicati. Io sono giusto e vero, ma l'amore paga tutto. Ascoltate, figli miei, facciamo una supposizione e avrete la sicurezza del mio amore. Per me i vostri peccati sono come il ferro, i vostri atti d'amore come l'oro. Anche se mi consegnaste mille chili di ferro, non sarebbe tanto quanto se mi donaste dieci chili d'oro. Ciò significa che, con un po' d'amore, si riscattano immense iniquità. Ecco dunque una larvatissima immagine del mio giudizio sui miei figli, gli uomini, tutti senza eccezione. Bisogna arrivare dunque fino a me. Sono così vicino a voi. Bisogna dunque amarmi e onorarmi, affinché non siate giudicati o tutto al più giudicati con amore infinitamente misericordioso. Non dubitate. Se il mio cuore non fosse così, avrei già sterminato il mondo ogni volta che ha commesso il peccato. Mentre voi ne siete testimoni, a ogni istante si manifesta la mia protezione mediante grazie e benefici. Da ciò potete concludere che c'è un padre al di sopra di tutti i padri, che vi ama, e non cesterà mai di amarvi, purché lo vogliate. Io vengo tra voi per due vie, la croce e l'eucarestia. La croce è la mia via per scendere tra i miei figli, perché è per mezzo suo che vi ho fatto redimere da mio figlio. E per voi la croce è la via per salire al mio figlio e da mio figlio fino a me. Senza di essa non potreste mai venire, perché l'uomo con il peccato ha attirato su di sé il castigo della separazione da Dio. Nell'eucarestia io dimoro tra voi come un padre nella sua famiglia. Ho voluto che mio figlio istituisse l'eucarestia per fare di ogni tabernacolo il serbatoio delle mie grazie, delle mie ricchezze e del mio amore, per darle agli uomini, i miei figli. È sempre questo, per queste due strade, che faccio scendere incessantemente sia la mia potenza che la mia infinita misericordia. Ora che vi ho mostrato che mio figlio Gesù mi rappresenta tra gli uomini e che mediante lui io dimoro costantemente tra loro, voglio mostrarvi anche che vengo tra voi, per mezzo del mio Spirito Santo. L'opera di questa terza persona della mia divinità si compie senza rumore e spesso l'uomo non se ne accorge, ma per me è un mezzo molto idoneo per dimorare non solo nel tabernacolo, ma anche nell'anima di tutti quelli che sono in stato di grazia, per stabilirvi il mio trono e dimorarvi sempre come il vero padre che ama, protegge e sostiene il figlio suo. Nessuno può comprendere la gioia che provo quando sono da solo a solo con un'anima. Nessuno ha ancora capito fino a che ora io desideri infiniti del mio cuore di padre Dio di essere conosciuto, amato e onorato da tutti gli uomini giusti e peccatori. Pertanto sono questi tre omaggi che desidero ricevere dall'uomo, perché io sia sempre misericordioso e buono, anche verso i più grandi peccatori. Che cosa non ho fatto al mio popolo? Da Adamo fino a Giuseppe, padre adottivo di Gesù, e da Giuseppe fino a questo giorno, perché l'uomo possa rendermi il culto speciale che mi è dovuto come padre, creatore e salvatore. Tuttavia questo culto speciale, che ho tanto desiderato e che desidero, non mi è stato ancora donato. Nell'Esodo leggete che bisogna onorare Dio di un culto speciale. Soprattutto i salmi di David racchiudono questo insegnamento. Nei comandamenti che ho dato io stesso a Mosè, ho messo in primo luogo adorerai e amerai perfettamente un solo Dio. Ebbene, amare e onorare qualcuno sono due cose che vanno insieme. Poiché io vi ho colmati di tanti benefici, io devo dunque essere onorato da voi in modo tutto particolare, dandovi la vita, ho voluto crearvi a mia somiglianza. Il vostro cuore è dunque sensibile come il mio, il mio come il vostro. Che non fareste se uno dei vostri vicini vi avesse reso un piccolo favore per farvi piacere. L'uomo più insensibile conserverebbe per questa persona una riconoscenza indimenticabile. Qualsiasi uomo cercherebbe anche ciò che gli farebbe maggior piacere per ricompensarlo del servizio reso. Ebbene, io sarò molto più riconoscente verso voi, assicurandovi la vita eterna, se voi mi farete il piccolo favore di onorarmi, come vi chiedo. Riconosco che mi onorate mio figlio e che ci sono quelli che sanno far risalire attraverso mio figlio tutto a me, ma è un numero ben piccolo. Non crediate tuttavia che onorando mio figlio non onoriate me, certo che sì. Mi onorate perché io dimoro nel figlio mio, dunque tutto ciò che gloria per lui lo è anche per me. Ma io vorrei vedere l'uomo onorare il padre suo e suo creatore con un culto speciale. Più onorerete me, più onorerete mio figlio, poiché secondo la mia volontà egli si è fatto il verbo incarnato ed è venuto tra voi per farvi conoscere colui che lo ha mandato. Se mi conoscerete, mi amerete e amerete il mio figlio di letto più di quanto non lo facciate adesso. Vedete quante mie creature divenute miei figli mediante il mistero della redenzione non sono nei pascoli che ho stabilito mediante mio figlio per tutti gli uomini. Vedete quanti altri, e voi lo sapete, ignorano ancora questi pascoli e quante creature uscite dalle mie mani di cui io so l'esistenza mentre voi l'ignorate non conoscono nemmeno la mano che le ha create. Oh, come vorrei far conoscere che Padre Onnipotente sono per voi e come lo sarei anche per loro mediante i miei benefici. Vorrei far loro trascorrere una vita più dolce per mezzo della mia legge. Vorrei che andaste a loro nel mio nome e che parlaste loro di me. Sì, dite loro che hanno un padre che, dopo averli creati, vuole dare loro i tesori che possiede. Soprattutto dite loro che li penso, li amo e voglio dare loro la felicità eterna. Ah, ve lo prometto, gli uomini si convertiranno più in fretta. Credete che se avesse cominciato fin dalla chiesa primitiva a onorarmi, a farmi onorare con un culto speciale, dopo venti secoli sarebbero rimasti pochi uomini viventi nell'idolatria, nel paganesimo, in tante false e cattive sette, nelle quali l'uomo corre a occhi chiusi a gettarsi nell'abisso del fuoco eterno e vedete quanto lavoro resta da fare. La mia ora è giunta. Bisogna che io sia conosciuto, amato e onorato dagli uomini, perché dopo averli creati io posso essere loro padre, poi loro salvatore, infine l'oggetto delle loro eterne delizie. Fin qui vi ho parlato di cose che sapevate già. Ho voluto ricordarvele, perché siate sempre più convinti che sono un padre buonissimo e non terribile, come voi credete, e ancora che sono il padre di tutti gli uomini ora viventi e di quelli che creerò fino alla fine del mondo. Sappiate che voglio essere conosciuto, amato e soprattutto onorato, che tutti riconoscano le mie bontà infinite verso tutti e soprattutto verso i peccatori, malati, moribondi e tutti coloro che soffrono, che sappiano che non ho che un solo desiderio, amarli tutti, donare loro le mie grazie e perdonare, perdonare quando si pentono e soprattutto non giudicarli secondo la mia giustizia, ma secondo la mia misericordia, perché tutti siano salvi e annoverati nel numero dei miei eletti. Per concludere questo piccolo esposto, vi faccio una promessa, il cui effetto sarà eterno, eccola, chiamatemi col nome di padre, con confidenza e amore e riceverete tutto da questo padre, con amore e misericordia, che il figlio mio tuo padre spirituale sappia occuparsi della mia gloria e mettere frase su frase ciò che ti ho fatto scrivere e anche quello che ti farò ancora scrivere, perché gli uomini trovino facile e piacevole la letta leggere ed esposto di ciò che voglio che sappiano, senza nulla aggiungere. Un po' per giorno ti parlerò dei miei desideri sugli uomini, delle mie gioie, delle mie pene e soprattutto mostrerò agli uomini le mie infinite bontà e la tenerezza del mio amore compassionevole. Vorrei anche che le tue superiore ti permettessero di impiegare i tuoi momenti di libertà per intrattenerti con me e che tu possa una mezz'ora al giorno consolarmi e amarmi e ottenere così che i cuori degli uomini miei figli siano ben disposti a lavorare per estendere questo culto di cui vi ho orora rivelato la forma, perché arriviate a una grande confidenza verso questo padre che vuole essere amato dai suoi figli, perché quest'opera che vorrei fare tra gli uomini possa estendersi in seno a tutte le nazioni più rapidamente possibile senza che quelli che saranno incaricati di diffonderla commettano la minima imprudenza. Ti domando di passare le tue giornate in un grande raccoglimento. Sarai felice di parlare poco con le creature e nel segreto del tuo cuore, anche quando tu sarai in mezzo a loro, parlerai con me e ascolterai me. Ecco d'altra parte ciò che voglio che tu faccia. Quando talvolta ti parlerò per te, scriverai le mie confidenze in un piccolo diario speciale, ma qui intendo parlare agli uomini. Io vivo con gli uomini in un'intimità più grande che una madre con i suoi figli. Fin dalla creazione dell'uomo non ho mai smesso un solo istante di vivere accanto a lui. Come creatore e padre dell'uomo sento il bisogno di amarlo. Non è che abbia bisogno di lui, ma il mio amore di padre e di creatore mi fa sentire questo bisogno di amare l'uomo. Vivo dunque vicino all'uomo, lo seguo dovunque, lo aiuto in tutto, supplisco a tutto. Vedo i suoi bisogni, le sue fatiche, tutti i suoi desideri. E la mia felicità più grande è di soccorrerlo e di salvarlo. Gli uomini credono che io sia un Dio terribile e che precipiti tutta l'umanità nell'inferno. Che sorpresa alla fine dei tempi quando vedranno tante anime che credevano perse godere l'eterna felicità in mezzo agli eletti. Vorrei che tutte le mie creature avessero la convinzione che c'è un padre che veglia su di loro e che vorrebbe far loro pregustare anche qua giù la felicità eterna. Una madre non dimentica mai la piccola creatura che ha messo al mondo. Non è ancora più bello da parte mia che mi ricordi di tutte le creature che ho messo al mondo. Ora, se la madre ama questo esserino che io le ho donato, io lo amo più di lei perché io l'ho creato. Quando anche talvolta succeda che una madre ami meno il suo bambino a causa di un difetto che potrebbe esistere in lui, io al contrario lo amerò ancora di più. Lei potrebbe giungere a dimenticarlo o a non pensarlo che raramente, soprattutto quando alla sua età lo avrà sottratto alla sua vigilanza. Io non lo dimenticherò mai. Io lo amo per sempre. E anche se non si ricorda più di me suo padre e suo creatore, io mi ricordo di lui e lo amo ancora. Vi ho detto prima che vorrei darvi anche qua giù la felicità eterna, ma voi non avete ancora capito che questa parola, della quale ecco il significato, se mi amate e se mi chiamate con confidenza, con questo dolce nome di padre, voi cominciate a conoscere fin da qua giù l'amore e la fiducia che faranno la vostra felicità nell'eternità e che canterete in cielo in compagnia degli eletti. Non è questa un'anticipazione della felicità del cielo che durerà eternamente? Desidero dunque che l'uomo si ricordi spesso che io sono là dove lui è, che non potrebbe vivere se io non fossi con lui, vivente come lui. Nonostante la sua incredulità, io non cesso mai di essere accanto a lui. Ah, come desidero vedere realizzarsi il progetto che voglio comunicarvi e che questo, fino a oggi, l'uomo non ha affatto pensato di fare a Dio suo padre questo piacere che sto per dire. Vorrei vedere stabilirsi una grande confidenza tra l'uomo e il padre suo nei cieli, un vero spirito di familiarità e di delicatezza nello stesso tempo, per non abusare della mia grande bontà. Conosco i vostri bisogni, i vostri desideri e tutto ciò che è in voi, ma quanto sarei felice e riconoscente se vi vedessi venire a me e confidarmi i vostri bisogni, come un figlio totalmente fiducioso fa con il suo padre. Come potrei rifiutarvi qualunque cosa, di minimo o di grande importanza, se me la chiedeste? Anche se non mi vedete, non mi sentite vicinissimo a voi negli avvenimenti che accadono in voi e attorno a voi? Come sarà meritorio per voi un giorno aver creduto in me, senza avermi visto? Anche ora che sono qui in persona, in mezzo a voi tutti, che vi parlo, ripetendovi incessantemente sotto tutte le forme che vi amo e che voglio essere conosciuto, amato e onorato con un culto speciale, voi non mi vedete, eccetto una sola persona, con lei alla quale detto questo messaggio. Una sola in tutta l'umanità. Tuttavia ecco che vi parlo. E in colei che io vedo e alla quale parlo, io vi vedo tutti e parlo a tutti e a ciascuno, e vi amo come se mi vedeste. Desidero dunque che gli uomini possano conoscermi e sentire che sono vicino a ciascuno di loro. Ricordatevi, o uomini, che vorrei essere la speranza dell'umanità. Non lo sono già. Se non fossi la speranza dell'uomo, l'uomo sarebbe perduto. Ma è necessario che io sia conosciuto come tale, perché la pace, la confidenza e l'amore entrino nel cuore degli uomini e giungano a metterli in relazione con il padre loro, del cielo e della terra. Non crediate che io sia quel terribile vecchio che gli uomini rappresentano nelle loro immagini e nei loro libri. No, no, io non sono né più giovane né più vecchio di mio figlio e del mio santo spirito. Perciò vorrei che tutti, dal bambino al vecchio, mi chiamassero col nome familiare di padre e di amico, poiché sono sempre con voi, mi faccio simile a voi, per farvi simili a me. Quanto grande sarebbe la mia gioia nel vedere i genitori insegnare i loro bambini a chiamarmi spesso col nome di padre, come realmente sono. Quanto desidererei vedere infondere in queste giovani anime una fiducia, un amore tutto filiale verso di me. Io ho fatto tutto per voi. Non farete questo per me. Vorrei stabilirmi in ogni famiglia, come nel mio dominio, affinché tutti possano dire con totale sicurezza abbiamo un padre che è infinitamente buono, immensamente ricco e largamente misericordioso. Pensa a noi ed è vicino a noi, ci guarda, ci sostiene lui stesso, ci darà tutto ciò che ci manca se glielo domandiamo. Tutte le sue ricchezze sono nostre, noi avremo tutto ciò che ci occorre. Io sono là proprio perché mi domandiate ciò di cui avete bisogno, chiedete e otterrete. Nella mia paterna bontà vi darò tutto, purché tutti sappiano considerarmi come un vero padre, vivente in mezzo ai miei, come io veramente faccio. Desidero ancora che ogni famiglia esponga la vista di tutti, l'immagine che più tardi farò conoscere alla mia figlioletta. Desidero che ogni famiglia possa mettersi così sotto la mia protezione tutta speciale, per potermi onorare più facilmente. Là, ogni giorno, la famiglia mi farà partecipare dei suoi bisogni, dei suoi lavori, delle sue pene, delle sue sofferenze, dei suoi desideri e anche delle sue gioie, perché un padre deve conoscere tutto ciò che riguarda i suoi figli. Io lo so certamente, poiché sono là, ma amo tanto la semplicità. So piegarmi alla vostra condizione, mi faccio piccolo con i piccoli, mi faccio adulto con gli uomini adulti, con i vecchi mi faccio simile a loro, perché tutti comprendano ciò che voglio loro dire, per la loro santificazione e per la mia gloria. La prova di ciò che vi sto dicendo, non l'avete il mio figlio che si è fatto piccolo e debole per voi? Non l'avete ancora adesso vedendomi qui a parlarvi? E perché possiate capire ciò che voglio dirvi? Non ho scelto per parlarvi una povera creatura come voi, e ora non mi faccio simile a voi? Vedete, ho messo la mia corona ai miei piedi, il mondo sul mio cuore, ho lasciato la mia gloria nel cielo e sono venuto qui, facendomi tutto a tutti, povero con i poveri e ricco con i ricchi. Voglio proteggere la gioventù come un tenero padre, c'è tanto male nel mondo. Queste povere anime inesperte si lasciano sedurre dagli allettamenti del vizio, che a poco a poco le conduce alla rovina totale. O voi, che in maniera particolare avete bisogno di qualcuno che vi custodisca nella vita per poter evitare il male, venite a me. Sono il padre che vi ama più di quanto nessun'altra creatura vi amerà mai. Rifugiatevi vicino a me, confidatemi i vostri pensieri, i vostri desideri. Io vi amerò teneramente, vi darò le grazie per il presente e benedirò il vostro avvenire. Siate certi che non vi dimentico. Dopo 15 o 25 o 30 anni che vi ho creati, venite. Vedo che avete grande bisogno di un padre dolce e infinitamente buono come me. Senza dilungarmi in tante altre cose che sarebbe opportuno dire qui, ma che potrò dire più tardi. Voglio ora parlare in modo tutto particolare alle anime di quelli che mi sono scelto, preti e religiosi. A voi, figli cari del mio amore, ho grandi disegni su di voi. Ecco, spero che questa prima parte della lettura vi sia piaciuta e ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Semina Luce. Ciao!